Sabato 14 e domenica 15 maggio il volontariato di Capitanata scende in piazza. Saranno circa 50 le associazioni protagoniste della festa del volontariato del CSV Foggia. Dopo l'apertura degli stand, in programma sabato 14 maggio alle ore 9.30 in Piazza Giordano e Via Lanza, spazio alla riflessione con il dibattito Donare un atto d'amore. Alle ore 11 i volontari di Admo, Aido e Avis incontreranno gli studenti. A seguire, alle 12.30 sarà presentato il concorso Arte per la vita, destinato ai giovani talenti. Nel pomeriggio, alle 16.45, il Movi ha organizzato il convegno Legami che fanno bene, costruire reti per il cambiamento sul territorio di Foggia. All'ora 18 puntata speciale di Chiaro di Luna, condotta dal giornalista Michi De Finis, sul tema pubblica amministrazione a terzo settore, coprogrammazione e coprogettazione. Domenica mattina, alle ore 11, momento di riflessione sul tema Emergenza Ucraina, aiuti e accoglienza con l'impegno del terzo settore. Nel pomeriggio, dopo un momento di approfondimento sul registro unico nazionale del terzo settore a cura dell'esperto Luigi Patella, Ludovico della Vergine del CSV Foggia coordinerà la tavola rotonda prevenzione in oncologia prima e durante la pandemia. Associazioni in Dialogo.